Grazie alla misericordia e alla pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Gli oggetti religiosi che questa sera porremo in questa nicchia sono un'espressione della nostra fede. Servono a richiamare l'amore di Dio e ad accrescere la fiducia nella Vergine Maria e nei Santi. Mentre invochiamo con l'intercessione di San Pasquale la benedizione del Signore, non dimentichiamo che soprattutto da noi che il Signore attende una coerente testimonianza di vita. E ascoltiamo la parola di Dio dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti. Dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore. Perciò investiti di questo ministero per la misericordia che ci è stata usata, non ci perdiamo d'animi. Al contrario, rifiutando le dissimulazioni vergognose, senza comportarci con astuzia, né falsificando la parola di Dio, ma annunziando apertamente la verità, ci presentiamo davanti a ogni coscienza al cospetto di Dio. Parola di Dio Prendiamo grazia a Dio Fratelli e sorelle, invochiamo Dio nostro Padre, non esibendo la devozione puramente esteriore, ma proclamando con tutta l'anima la grandezza del suo amore. Diciamo insieme, donaci, Signore, lo Spirito di pietà. Donaci, Signore, lo Spirito di pietà. Dio Clementissimo, ricordaci sempre le Tue meraviglie. Fa che attraverso questi segni sensibili riscopriamo i prodigi della Tua misericordia. Donaci, Signore, lo Spirito di pietà. Fa che l'immagine di San Pasquale ci aiuti a divenire adoratori in spirito e verità, autentici discepoli e testimoni del Tuo Vangelo. Donaci, Signore, lo Spirito di pietà. Insegnaci a pregare senza mai stancarci sull'esempio di Cristo, Tuo Figlio. Fa che perseverando in preghiera viviamo nella castità e nel servizio del bene. Donaci, Signore, lo Spirito di pietà. Dispensa alla Tua Chiesa tesori di pietà e di santità. E fa che questi umili segni giovino all'edificazione del Tuo Regno. Donaci, Signore, lo Spirito di pietà. Padre nostro che sei nei Cieli e sia santi, caro tuo nome. Venga il Tuo Regno e sia fatta la tua volontà, come il Cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro Pai quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi mettiamo i nostri debiti, in istituzione e tentazione di vita nazionale. Benedetto sei Tuo Padre, origine e fonte di ogni benedizione, che Ti compiaci della crescita spirituale dei Tuoi figli. Mostraci la Tua benevolenza e fa che, esponendo questo segno della fede rappresentante San Pasquale, ci impegniamo a conformarci all'immagine del Tuo Figlio Gesù Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Dio che in Cristo ha rivelato la Sua gloria, vi conceda di imitarlo con la santità della vita, perché possiate contemplarlo faccia a faccia nella beatitudine eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e rimanga sempre con voi. Amen. Signor Sindaco, a voi l'onore. Io l'ho benedetto e tu lo deponi, vai. E' ancora bagnato, eh? Aspetta di bene. Sì. Non ti vedete la porta? Che? Se mi metti i suoi non facciano? Sì. Così non fidi a fitto. Andiamo. Andiamo. Sentite la porta, cos'è non fidi a fitto. Grazie.